Basta restare fuori di casa pochi minuti per rendersi conto dell'aria pesante che si respira a Piacenza. Per dieci giorni consecutivi i valori delle polveri sottili registrati dalla centralina di via Giordani in centro storico sono risultati di gran lunga superiori alla soglia di 50 microgrammi al metro cubo e così è arrivato il cinquantesimo sforamento dall'inizio dell'anno, quelli consentiti sono 35. Anche la centralina di Montecucco ha registrato valori oltre i limiti, dati prevedibili a causa della persistenza del bel tempo che unito al traffico fa schizzare alle stelle i valori delle PM10. In base a quanto previsto dal protocollo regionale Liberiamo l'aria, domani scatta dunque la fase emergenziale di livello 2. Pertanto è previsto il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 per i veicoli a benzina pre-euro ed euro 1, diesel pre-euro, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 e ciclomotori e motocicli a due tempi pre-euro. Permane per tutti l'obbligo di spegnere il motore dei veicoli in sosta. La fase di emergenza comporta inoltre il divieto assoluto di combustioni all'aperto di qualsiasi tipologia, il divieto di spandimento di liquami zootecnici e di utilizzo di generatori domestici di calore alimentati a biomassa legnosa, avventi prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle. Obbligatorio infine ridurre di almeno un grado centigrado le temperature negli ambienti riscaldati, fino a un massimo di 19 gradi nelle case, uffici, luoghi di culto, commerciali o ricreativi e di 17 gradi nelle sedi delle attività industriali e artigianali. Le misure emergenziali restano in vigore anche sabato e domenica fino a lunedì compreso. Nella lotta all'inquinamento facciamo sul serio ha commentato l'assessore regionale Paola Gazzolo, stiamo infatti dando applicazione per la prima volta ad azioni emergenziali in tutta la pianura padana. Inoltre in questi giorni l'assessore Gazzolo ha scritto a tutti i sindaci della regione con territorio sotto i 300 metri per ricordare il nuovo divieto ordinario di uso dei cammini aperti e con efficienza energetica inferiore al 75% alimentati a legna. Si possono utilizzare solo se non sono presenti altri sistemi di riscaldamento. Piacenza è l'unica città della regione in cui è scattata la fase emergenziale 2.